Ciao viaggiatori, state cercando un'esperienza unica ed incredibile, un'avventura fuori dal comune? Allora preparatevi a lasciarvi alle spalle il freddo inverno e ad unirvi a noi per una settimana bianca come nessun'altra. Dal 10 al 14 dicembre 2023 vi invitiamo a scoprire la magia dell'Oman centrale, un luogo dove il bianco non è solo neve ma anche l'infinita sabbia dei deserti e le spumeggianti onde del mare. Immaginate di camminare lungo le dune immacolate di Calouf con il sole che accarezza la sabbia fino a renderla luccicante come un diamante. Ogni passo che farete sarà una danza con la natura stessa. sentirete il vento che canta tra le dune trasportando con sé il respiro del deserto e l'eco delle antiche epoche. Qui il tempo sembra fermarsi avvolgendovi in un silenzio sereno ed affascinante che parla direttamente all'anima. Vi ritroverete sulle coste dell'Oman dove il mare incontra il deserto creando un contrasto spettacolare. Il bianco della sabbia si fonde col bianco delle onde creando un paesaggio che toglie il fiato. Potrete tuffarvi nelle acque turchesi scoprire l'incredibile mondo sottomarino o semplicemente rilassarvi sulla spiaggia ascoltando il ritmico infrangersi delle onde. Qui ogni momento diventa un ricordo indimenticabile. Ognuno di noi ha un viaggiatore dentro, un'anima che desidera esplorare, scoprire, vivere. La settimana bianca in Oman è l'occasione per risvegliare quel viaggiatore, per vivere un'avventura che andrà oltre i vostri sogni.